La nuova Power Cruiser, Benda LFC 700, arriva finalmente in Cina e non solo. La moto si basa sul concetto LF-01 dell'azienda che è stata presentata l'anno scorso. Conosciuto per il suo accattivante pneumatico posteriore con sezione da 310, nonché per il suo stile affilato e spigoloso, Benda ha appena lanciato la sua nuova Power Cruiser LFC 700 nel mercato cinese in due varianti, standard e high power. La versione standard ha un prezzo di circa 5.997 dollari, mentre la versione high power più premium costerà circa 7.080 dollari. Dal punto di vista delle prestazioni, entrambi i modelli standard e high power condividono lo stesso motore quattro cilindri in linea da 680 cm3 a raffreddamento liquido. Una configurazione del motore piuttosto unica per una Cruiser. La potenza massima è di 94 cavalli e li trasferisce al suo enorme pneumatico posteriore tramite un cambio a 6 marce a catena. Benda affirma che la standard LFC 700 può raggiungere una velocità massima di 170 km orari. La versione high power, d'altra parte, è in grado di raggiungere 195 km orari. Quest'ultima ottiene infatti una frizione antisaltellamento per una maggiore comodità e sicurezza, sospensioni KYB che consistono in una forcella rovesciata e un monoamortizzatore posteriore regolabile, freni Brembo così come le pinze Nissin della versione standard. Entrambe le versioni sono dotate di ABS e di serie. Non ci sarà però ride-by-wire e cruise control. Questo è stato probabilmente fatto per contenere i costi. Il serbatoio da 20 litri però renderà l'LFC 700 una moto molto più che capace per le lunghe distanze. Oltre ciò, la moto ha una strumentazione TFT a colori con navigazione integrata, nonché una suite completa di luci a LED. Benda dovrebbe lanciare l'LFC 700 nel mercato globale nei prossimi mesi. Probabilmente vedremo questa moto arrivare prima nei paesi asiatici vicini, così come l'Europa, in particolare Spagna, Portogallo, Italia e Regno Unito. Voi cosa ne pensate sia del prezzo e delle specifiche? E se non vedete l'ora di vederla dal vivo, fatemi sapere qui giù nei commenti. E con questo, ragazzi, vi saluto. Mi raccomando, se siete nuovi e vedete più video di questo genere qua, iscriviti a questo canale, metti un mi piace a questo video se ti è piaciuto e seguimi anche su Instagram, agm.moto. Alla prossima, ciao, bene!